Questo è un paese strano, un paese dove la polemica fa sempre notizia, ma l'arresto di un politico per mafia passa in secondo piano. Nicola Morra si è scusato per le sue parole su Iole Santelli, la cui scomparsa ha scosso davvero tutti. Ciò nonostante, da giorni non si fa altro che attaccare lui, proprio mentre il presidente del Consiglio della Regione Calabria, Domenico Tallini, viene arrestato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Adesso è ai domiciliari. Lo ha scritto in un post su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio. E sapete chi c'era nella lista degli impresentabili redatta dalla commissione antimafia di cui Nicola Morra è presidente? Proprio Domenico Tallini. Ecco, io credo che questo paese debba innanzitutto preoccuparsi di mafia, di corruzione, di clientelismo, non solo delle dichiarazioni di qualche politico. Mi sembra assurdo che queste dichiarazioni vengano usate per oscurare la notizia di un arresto per mafia di un rappresentante delle istituzioni. Ci è già successo centinaia di volte e come Movimento 5 Stelle abbiamo le spalle larghe. Ma non smetto mai di meravigliarmi, ha aggiunto Di Maio, che ha concluso. Non vedo l'ora di vedere Nicola Morra in Rai per rispondere a tutte le domande che i giornalisti vorranno fargli.